La parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù con Don Fernando Lupo domani festeggia 50 anni di istituzione. La sua fondazione giunse all'indomani dei tumulti battipagliesi del 9 aprile del 1969. Fino a quell'anno in città vi era la sola Santa Maria della Speranza. L'incarico di curare le anime della parrocchia, formato dalla Chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù, da Sant'Isidoro e dal Sacro Cure di Gesù, fu affidato a Don Fernando Lupo, la Chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù venne inaugurata la notte di Natale del 1986. Fino a quell'25 dicembre Don Fernando Lupo celebrava messa in garage. Nel 1980 il sindaco Enrico Giovine dona alla parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù lo stabile ex mattatoio comunale in via Rosaiema. Con gli anni la Chiesetta venne ristrutturata ed inaugurata il 1 marzo. Lo scorso anno Don Fernando Lupo ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio invitato da Papa Francesco, gli sono stati concessi tutti gli onori. Ha anche concelebrato la Santa Messa con il Santo Padre.